Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Stefania, sono un'insegnante di yoga certificato nel massaggiatrice qui ad Amsterdam. Oggi vediamo gli esercizi di respirazione che potresti voler incorporare nella tua routine quotidiana, la mattina, in posa, pranzo, la sera. Come avevo già anticipato nel video generale che riguarda queste routine per i soggetti fibromialgici o con simili sindromi, è importante fare le cose in maniera semplice, che sia sostenibile in qualsiasi giorno, anche quelli in cui non stiamo troppo bene, in modo tale che poi questa pratica formale in cui ci prendiamo questi 5, 10, 20 minuti massimo durante la giornata ci ritornino utili durante poi il resto della giornata. Perché vogliamo fare pranayama o esercizi del respiro, non solo al fine di quei 5, 10 minuti in cui stiamo facendo la respirazione, ma perché così poi durante il resto della giornata ci accorgiamo, stiamo ispirando dalla bocca che attiva tutta una serie di meccanismi di stress per la connessione insomma con il nostro sistema nervoso. Stiamo respirando in maniera molto affannata, quindi forse abbiamo bisogno di rallentare, stiamo respirando in maniera molto superficiale perché magari siamo in una situazione di allarme, quindi possiamo uscire da questa situazione di allarme o possiamo gestirla con le tecniche di respirazione. E quindi oggi vediamo insieme un tipo di pranayama molto semplice, lo facciamo da seduti, se non funziona stare seduto perché senti un senso di costruzione, perché magari non riesci bene a stare con la schiena dritta, un po' di mobilità nel bacino, non ti preoccupare, puoi fare la stessa cosa anche da in piedi. Puoi farlo sì anche da sdraiato, quando siamo sdraiati a volte aiuta un pochettino nel mettere le mani sulla pancia e effettivamente sentire il movimento anche nella parte bassa dell'addome, quindi anche sotto il diaframma per vedere effettivamente che anche quella parte si muova. Quello che puoi fare anche da seduta o da in piedi è comunque di mettere una mano sulla pancia e l'altra sul petto se per te va bene, avere le mani in queste zone del tuo corpo. Proviamo subito così senza farne nessun tipo di respiro particolare, semplicemente a diventare consapevoli del respiro com'è. Se ti aiuta puoi anche chiudere gli occhi, se preferisci rilassa lo sguardo sul pavimento davanti a te e nota un attimo se senti effettivamente che queste zone del corpo verso l'addome verso il petto fanno un qualche movimento durante i tuoi respiri, inspirazione ed espirazione. Magari non si muove quasi nulla, che sia proprio fermo non è possibile, essere in apnea. Quindi magari c'è un movimento piccolo, non importa, non lo vogliamo esagerare, non lo vogliamo ricercare, verrà da sé. Mano a mano che noi entriamo più in contatto con il nostro corpo, mano a mano che pratichiamo respirazione e magari altre discipline, un po' di yoga eccetera, noteremo che le cose iniziano a sbloccarsi. Quello che potresti iniziare a sentire è che quando innespiri l'aria dentro, la pancia e il petto si espandono leggermente in avanti o in alto e poi quando espiri tutto si alleggerisce verso il basso e l'indentro, un po' come un palloncino, quando lo gonfi e quando poi lo sgonfi. L'immagine del palloncino ricordi solo che quando lo gonfi per te sarebbe un'espirazione, se tu gonfi un palloncino stai espirando l'aria dentro il palloncino, però in realtà l'immagine del palloncino che si gonfia è quando tu inspiri la pancia e il petto si gonfiano, giusto per essere chiaro. Se te lo faccio vedere un attimo in piedi per intendere, lo esagero per farti capire. inspiro, espiro, inspiro, espiro. Vedi che c'è un po' di movimento anche nel bacino, guarda questa zona qua, inspiro, senza la mano, espiro, inspiro, espiro. Non so se l'avete sentito, anche c'è anche la mia pancia, i succhi gastrici che si muovono proprio perché effettivamente sto facendo una specie di massaggio a livello intestinale autorizzando questi movimenti quando respiro. Se respiro in maniera molto superficiale questo non avviene, perché il respiro superficiale si ferma qui, è molto più corto e si ferma proprio qua. Quindi qua sotto nulla si muove e quindi possiamo poi avere tutta una serie di problemi anche a livello di gestione. Cerchiamo di iniziare a notare, se lo sentiamo anche di qui, cerchiamo di stare seduti in modo tale da favorire questo leggero basculamento, questa espansione, il rilassamento della pancia. Basta anche solo quello. Inspiro ed espiro dal naso, se vuoi espira dalla bocca, ma cerca comunque di inspirare sempre dal naso, al tuo passo senza sforzarlo, ma cercando di vedere se queste zone qui iniziano a sbloccarsi. Se vuoi aggiungere proprio un pranayama di per sé e quindi in qualche modo modulare il tuo respiro, allora proviamo con una cosa relativamente facile che è inspirare per tre, io conto, uno, due, tre, espiriamo per tre, uno, due, tre. Ci sono delle piccole pausette quando tu inspiri prima che l'espirazione parta, è lo stesso al fondo dell'espirazione, per un attimo tutto si ferma, o meglio il tuo respiro si ferma, e poi prendi l'aria di nuovo. Non devi esagerarla, in questo tipo di pranayama non facciamo quella pausa classica in cui stiamo un respiro o più respiri in kumbhaka, si chiama in sascheto, cioè tutto fermo, non inspiro, non espiro tra tengo l'aria, noi non lo facciamo. Perché soprattutto se non stiamo tanto bene, questo può attivare tutta una serie di risposte diciamo del nostro sistema nervoso, invece noi facciamo fluire l'aria in and out, dicono in inglese, dentro e fuori, dentro e fuori. Ti può aiutare visualizzare, se hai una buona immaginazione, un flusso d'aria, una corrente d'aria, se preferisci un altro elemento, ti piace l'acqua, usa l'acqua, una turbina di acqua che circola, che fa proprio questi cerchi all'interno del corpo, entra dalle narici del naso, va tutto dentro, tutto basso in basso fino al pavimento pelvico e si fa poi il giro dall'altra parte, quindi va tutto su, passa dai polmoni ed esce o di nuovo dalle narici del naso o dalla bocca. Proviamo con il conto, di nuovo puoi utilizzare le mani qua per vedere se si muove o rilassare le mani sulle tue ginocchia o nel Buddha, nel mudra del Buddha. Proviamo, diventiamo consapevole di nuovo nel nostro respiro. Se è possibile inspira ed espira dal naso. Mantieni la schiena ben dritta, se è possibile, con le spalle lontane dalle orecchie, chiudendo gli occhi o rilassando lo sguardo sul pavimento. Proviamo ad aumentare un pochettino volontariamente l'inspirazione e l'espirazione. Lenta e regolare, quindi non il sospirone classico della serie. Lento, tranquillo, regolare. Usa magari la visualizzazione, l'aria che entra, nutre il corpo e poi esce. Stesso se espiri della bocca, inspiri e l'aria esce. Aggiungiamo il conto. Inspiriamo. Uno, due, tre. Espiriamo. Uno, due, tre. Inspiriamo. Uno, due, tre. Espiriamo. Uno, due, tre. Espiriamo. Uno, due, tre. Inspiriamo. Uno, due, tre. Espiriamo. Uno, due, tre. Espiriamo. Uno, due, tre. Inspiriamo. Uno, due, tre. Espiriamo. Uno, due, tre. Espiriamo. Uno, due, tre. Ancora un paio di volte. Iniziamo a rallentare, a tornare al respiro così come vuole essere in questo preciso momento. Congiungiamo le mani davanti al petto o portiamo una mano sul petto e l'altra sopra di essa. ci prendiamo un attimo per ringraziare il nostro corpo, coltivando un senso di gentilezza e compassione verso noi stessi. Se abbiamo gli occhi chiusi lentamente li riapriamo. Nota come hai trovato questo esercizio contando fino a tre. Troppo lungo? Accorcia. Mentalmente conti, non contare parlando così come ho fatto io per guidarti perché altrimenti non ti si storcia un po' il ritmo, quindi conta internamente. Ci sono anche degli utensili che potresti utilizzare. Una cosa che puoi trovare in tanti negozi di giochi è quella specie di pendolo che ha tipo tre, quattro, sei palline e praticamente queste palline tutte in fila di solito di qualche acciaio, qualche materiale di questo tipo, ne fai partire una e fa tuc, 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 tuc e poi ci sono determinati strumenti anche musicali o comunque nei negozi di musica ci sono delle cose apposta, tipo i metronomi eccetera per coloro che studiano musica o sono un strumento che ti danno anche il tempo. Potrebbe essere anche una cosa da utilizzare, magari ce l'hai già a casa lì a prendere polvere tipo su pellettile, ciapapuer, come diciamo in piemontese, acchiappapolvere e quindi ecco potresti utilizzare quello se non vuoi contare. Se invece il conto così fino a tre per esempio funzionava magari puoi fare quello che viene spesso sponsorizzato nelle lezioni di yoga che è contare fino a quattro. Di nuovo mantieni le cose semplici, non andare a impelagarti, box breathing, conto fino a quattro, pausa di quattro, espiro fino a quattro, di nuovo pausa a quattro, è già troppo, non ti serve. Se inizi a prenderci un po' la mano con il pranayama, magari stai facendo tutta una serie di training anche magari per yoga eccetera, allora gradatamente magari arriverai anche a praticare quello, ma dal punto di vista di utilizzare tecniche di respirazione per supportarti durante la giornata con una condizione tipo la fibromagia, davvero non c'è bisogno di andare a impelagarsi e complicarsi le cose con strane tecniche di pranayama. Spero che ti sia utile, come sempre se delle domande richieste di chiaramente fammele sapere nella sezione commenti, se sono cose lunghe magari è meglio se mi mandi una email o se sono cose un po' troppo private, mandamela via email. Prendi cura di te, continua a praticare, ci vediamo la prossima volta, ciao!